gentili telespettatori buona giornata sapete che a milano a ridosso di via monte napoleone dove c'è quei portici con sotto un bar prima di entrare in via monte napoleone sui pilastri lì su un pilastro è venuto fuori un murales che rappresenta giorgia meloni un po in stile marylin vestito di bianco con la fiamma tricolore qua sulla spalla e quel murale ovviamente è durato quel che è durato perché lo hanno già imbrattato e c'è una scritta che dice è un insulto marylin questo morale ti consideri provita ma lasci gli immigrati crepare in mare provita sì provita sul provita sono d'accordo anch'io sul fatto che lascia crepare i migranti in mare è una bugia anzi vi dico di più non è una bugia ma è una calunnia la calunnia è quando tu dici che una persona è colpevole di un crimine che non ha fatto e tu lo comunichi agli altri quella si chiama calunnia dove si va in carcere per la calunnia quando tu dici che una persona ha fatto un crimine non è vero si chiama calunnia ecco allora dopo appena un giorno viene vandalizzato questo murales dell'artista alexandro palombo che ritrae la presidente del consiglio in versione marylin a ridosso di via monte napoleone e così appare oggi la scritta mentre con una x è stata fatta sulla sulla bocca della 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 del disegno meloni era stata raffigurata in posa sopra la corrente ascensionale di una grata della metropolitana milanese con l'iconico vestito bianco della morro che si solleva con il vento e svela la bandiera dell'unione europea era il 1954 quando marylin apparve con quell'abito da cocktail in crepe di seta plissettato sulle grate della metro di new york durante le riprese del film the seven year itch se non sbaglio nella versione italiana quando la moglie in vacanza diretto da billy wilde una scena divenuta cult ed entrata nella storia del cinema mondiale perché è una bugia è completamente falso che il governo meloni o i membri del governo meloni lasciano crepare la gente in mare questa è proprio una menzogna da portare in tribunale perché nessuno ha mai detto di non salvare le persone in mare le persone in mare vanno salvate sempre e comunque la storiella che la meloni aveva detto che le ong andavano affondate è stata strumentalizzata la meloni l'ha detto veramente sì che l'ha detto ma in un altro modo la meloni ha detto così quando fermi una ong perché ha commesso qualche infrazione amministrativa o altro quando fermi una ong e capisci che quello che sta facendo non è propriamente regolare allora prendi quella nave e poi fare diverse cose la puoi vendere la puoi distruggere la puoi affondare lei dice vanno affondate lo diceva tanti anni fa quando era capo di un partito dal 1 per cento 1 1,5 per cento e parlava con enfasi di questi temi perché era un partito di destra ecco partito di destra che affrontava questi temi con un piglio abbastanza vanno affondate oggi cosa che non direbbe più anche perché viene volutamente fraintesa quindi quella fondare le ong aveva questo significato quando la sequestri o la dischi la affondi ecco non che la fondi con la gente sopra insomma poi a sinistra sono furbi nel strumentalizzare tutto allora ama col decreto cutro si dice che la ong deve andare dritta al porto più lontano possibile e senza fare altri salvataggi allora hai capito qual è il senso lasciare le persone in mare no non è questo allora che le ong vengano mandate a sbarcare nei porti più lontani è ovvio che viene fatto per rallentare il lavoro delle ong perché sono considerate un pull factor dalle autorità europee come frontex che hanno sempre detto più ong in mare più gente parte perché sanno che c'è qualcuno che li carica su e li porta in italia con una nave grande quindi lo ng pull factor in mare viene il suo operato viene rallentato dal governo mandandole queste navi il più lontano possibile e dicendo devi fare un solo salvataggio e poi vai dritto al porto di sbarco e qui come si dice casca l'asino e qui c'è la strumentalizzazione cosa succede la ong fa un salvataggio le autorità italiane si mettono in contatto con questa ong e gli viene assegnato il porto più lontano possibile come vi dicevo prima l'ong comincia a dirigersi verso quel post porto poi arriva una chiamata di un ulteriore soccorso a quel punto l'ong e le autorità italiane si mettono d'accordo chiaramente decide il governo italiano che fa questa valutazione o vado io se arrivo in tempo oppure dico all'ong se è autorizzata ad andare a fare il secondo salvataggio il terzo il quarto perché noi non possiamo non facciamo a tempo non abbiamo mezzi non arriviamo a tempo quindi andate voi quindi o va l'ong o vanno le autorità italiane poi capita spesso che l'ong dice no io ci vado lo stesso vado a prenderli io non si sa bene per quale motivo e c'è questo scontro poi vengono sequestrate perché cercano di fare quello che hanno voglia quindi non c'è nessuno che viene abbandonato in mare se individuato perché se individui la barca puoi salvare le persone se la barca non la individui che nessuno la vede non puoi quindi succede questo che quando viene arriva un segnale di soccorso l'italia e le ong si parlano vado io o vai tu quindi il governo italiano la meloni salvini e nessuno che faccia parte di questo governo lascia le persone crepare in mare questo è questa è la realtà tutto il resto sono calunnie calunnie che se portate a processo c'è il carcere perché non puoi andare a calunniare inventandoti o inventandosi reati inesistenti o crimini inesistenti grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci al prossimo video